La Mini Clubman, modello iconico della casa britannica, si rinnova nel suo restyling 2020, restando però fedele agli stilemi che l'hanno resa grande. La griglia anteriore cresce di dimensioni e viene circondata dai nuovi gruppi ottici con firma LED circolare, ora disponibili anche con funzione Matrix. La firma LED posteriore richiama la bandiera del Regno Unito, aggiungendo personalità al tipico sportello a due battenti con cerniere laterali. La vettura della nostra prova con allestimento S monta un 2.000 benzina da 192 CV e 280 Nm di coppia, a cui non manca sicuramente la potenza necessaria per svincolarsi agilmente nel traffico urbano, consentendo anche di togliersi qualche sfizio, selezionando la modalità sport quando iniziano le curve. L'assetto, da sempre punto fort del marchio britannico, si conferma a fuoco anche su questa nuova generazione, il tipico feeling da go-kart rimane nonostante il peso superi 1.500 kg. La trazione integrale aumenta inevitabilmente i consumi, ma torna utile specialmente nella stagione invernale, a chi vive in situazioni dove la neve cade frequentemente. L'abitacolo presenta materiali di qualità e un sistema di infotainment intuitivo e completo, e lo spazio a bordo, grazie alle quattro porte, non manca a chi siede sul divano posteriore. La nuova Mini Clapman ha un prezzo di partenza di quasi 24.000 euro, ma per la versione della nostra prova si arriva esattamente al doppio della cifra.